Domani pomeriggio saranno consegnate altre soluzioni abitative di emergenza a Camerino. Anche nella città ducale, quindi, dove le opere per la realizzazione delle cosiddette casette è andata molto più a lungo che altrove, la popolazione sta tornando quasi tutta. Sono momenti di grande festa, anche se è chiaro che a distanza di due anni c'è poco da festeggiare e rimane l'ansia di una ricostruzione che stenta a ripartire. Ma il fatto di poter tornare a fare comunità è un inizio sicuramente importante. Occorre stringere i tempi, ha detto il Presidente della Regione Marche Ceriscioli. Siamo consci delle molteplici difficoltà, ma ciascuno per la propria parte deve fare il massimo per dare una risposta alle persone che sono ancora accolte in località lontane da Camerino e che, con forte disagio, devono affrontare la vita di tutti i giorni. Occorre che vengano segnalati con immediatezza intoppi burocratici o problemi di sincronizzazione tra le varie fasi di esecuzione, affinché possiamo intervenire e superarli. In pochi giorni contiamo di ultimare tutte le consegne delle SAE. Le urbanizzazioni realizzate a Camerino hanno un valore di oltre 15 milioni di euro, la cifra più alta investita tra i comuni colpiti dal sisma. Il fabbisogno complessivo è stato fornito in via definitiva a gennaio 2018 con l'introduzione di una nuova area, Cortine Ovest Ampliamento, per la quale sono state richieste 39 casette.